Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci proviamo qualche prodottino del brand Stila Cosmetics. Sono ancora in quella fase della mattina in cui mi sento un po' assonnata, cioè che mi sento la voce un po'... Non so se mi capite, ma sicuramente sì. In realtà non è neanche mattina prestissimo, cioè non mi sono svegliata due secondi fa, però non avevo ancora iniziato a parlare e quindi ho bisogno di un po' di tempo per scaldarmi, sentite già sono un pochino più attiva. Come vi anticipavo abbiamo dei prodotti di Stila da testare, questa palette mi ispira tantissimo, ma attenzione attenzione perché abbiamo anche un correttore. Questo in realtà già l'ho provato, quindi vi faccio anche una mini recensione, sto già chiacchierando troppo. I prodotti mi sono stati mandati e li trovate sul sito di Look Fantastic. Vi dico anche che come al solito è attivo il codice Giuliatrend che vi dà fino al 25% su tantissimi brand e prodotti. Zoomiamo e iniziamo a truccarci. Ho messo un po' di fondotinta, ho applicato come quasi tutti i giorni della mia vita lo Skin Perfect di Vip Makeup. Vi lascio tutti gli altri prodotti che utilizzo, a parte quelli che vi faccio vedere, sempre nella descrizione. Adesso passiamo al correttore e questo è il primo prodotto di Stila che testiamo oggi, è il Pixel Perfect Concealer. Io ce l'ho nel colore Fair. Non è che ci dice tantissimo qui sulla scatolina perché ci dice che va a correggere e a illuminare la zona, ma con un effetto molto leggero. È infuso con un po' di roba che non so tradurre dall'inglese, sicuramente troverete scritta sul sito. Ci dicono anche che è a lunga tenuta e crisp proof, quindi non se ne andrà nelle pieghette. Lo promettono tutti i correttori, ma poi non lo fa quasi nessuno. Vediamo. Il packaging molto carino, guardate un po' qui. Molto elegante. Si vede anche il fondo, si riesce a vedere quando poi finite il prodotto. Mi piace anche questa striscia dorata. L'applicatore, cioè proprio non lo conosco questo correttore, quindi sono curiosissima. Molto sottile. Sembra quello di Neve Cosmetics del ristretto. Così con il fondo verde magari lo vedete meglio, vedete è proprio piccolo piccolo. Però mi piace perché comunque riesco ad arrivare bene qui sull'angolino interno. Ne metto molto leggero come consistenza, mi sto guardando da lontanissima, ma vedo comunque che proprio sembra quasi una crema colorata, non un correttore di quelli belli copretti. Lo metto anche qui nella zona dell'occhiaio e faccio questa cosa che faccio sempre, che mi dà un po' l'effetto lifting. Vado con la Beauty Blender a sfumare il tutto, se preferite potete usare anche pennello o spugnetta. Si sfuma benissimo e velocissimamente. Coprenza non direi altissimissimissima, però ha fatto un buon lavoro, anche perché applicandolo così mi sembrava veramente leggerissimo. Proviamo a metterne ancora un pizzichino, non un pizzico ma un goccino, ecco forse è la parola più giusta, e me lo vado a ritamponare. Magari si riesce ad aggiungere ancora un po' di coprenza. Mi sembra di quei correttori che rimane più cremosino, non quelli che si asciugano completamente potrebbe andare meglio per un contorno occhi più secco. Come coprenza rispetto al ristretto, perché sapete che è il mio correttore preferito di sempre, e ormai quando provo qualche correttore mi chiedete sempre, sì ma rispetto a quello di Neve Cosmetics com'è? Quindi vi anticipo e ve lo dico io. Come coprenza più leggera? Rispetto a quello di Neve Cosmetics è una medio, media, sì direi leggermente stratificabile. Questo rimane un pochino più cremoso, il che potrebbe essere un pro o un contro, perché potrebbe poi andare a muoversi durante la giornata. Quello di Neve su di me rimane proprio perfetto, cioè al massimo mi fa una mezza rigina a fine giornata. E vedremo invece lui come si comporterà. A primo impatto vi dico che comunque quello di Neve per me è già meglio, perché mi dà molta più coprenza, con molto meno prodotto e soprattutto meno fatica. Essendo così cremoso non lo userei neanche per andare a correggere i vari brufoletti e bollicine, però ci siamo e testiamolo. Andiamolo così a mettere leggero e poi con il polpastrello lo andiamo a tamponare. Sulle bollicine per me è un... non le copre così tanto, è veramente leggero e il fatto che è così cremosino mi fa pensare che tra poco qui non ci sarà più nulla. Siccome sul contornocchi vedo che si sta già muovendo e sta già andando nelle pieghette, ovviamente non l'abbiamo ancora fissato, però cerco di sbrigarmi e andare a mettere la cipria qui, perché ho paura che si aspetta ancora un po' e continuo a chiacchierare, succederà il disastro. Vado con la cipria di Elf, questa in polvere libera, e me la vado a tamponare su tutta la zona. Primissime considerazioni mentre applico la terra. Lo trovo un correttore ok, cioè a parte il fatto che si sta già muovendo, questa cosa non è che mi piaccia proprio tantissimo. Rimaniamo su queste primissime considerazioni, molto molto cremoso, non si asciuga per niente, anche fissandolo con la cipria mi sembra rimanga appunto così cremosino, copre l'occhiaia ma senza darci quella cosa wow di dire illumina la zona, copre perfettamente, più passano i secondi e più peggiora questo correttore. Aspettate che ve lo faccio vedere da vicino. Spero che vedrete qualcosa, non so se si riuscirà a vedere, ma sta facendo tutte delle grinsette, guardate, è una cosa stranissima, come sempre diventerò arancione in questa inquadratura. Mi sembra che si sta muovendo, si sta impastando con la cipria. Proprio per il fatto che è così cremoso e pastoso potrebbe non fissarsi per niente e creare questa pappetta grinsosa strana appunto con la cipria, cosa che non mi piace per niente. Interveniamo d'urgenza e vediamo se riusciamo a salvare la situazione. Andiamo con un po' di queste polveri chiari dalla palette di Vip Makeup e andiamo a tamponare per capire se la situazione migliora, perché qua ragazzi è veramente tragica. Ok, un po' meglio, ma da un correttore di stila mi aspetto qualcosa di più. Adesso vado avanti con il make-up e poi passiamo alla palette occhi. È arrivato il momento di provare la palette, però prima volevo farvi una mini recensione di questo prodotto e non lo indosserò oggi perché i colori di questo con la palette non si abbinano, quindi non vorrei fare un mappazzone di robe che non c'entrano niente, ma vorrei testare per bene gli ombretti qui. Siccome questo già l'ho provato e ce l'ho anche in un altro colore, vi dico che è un prodotto fantastico, guardate che carino. Si presenta in questo modo, ma è magnetico, quindi li potete anche staccare. Da una parte avete l'ombretto opaco, si sfuma benissimo anche con il pennello, fate una striscetta così oppure mettete tre puntini, sfumate con il pennello, se volete potete lasciarlo anche così, oppure avete dall'altra parte i glitterini, magari da mettere qui sull'angolino interno, su tutta la palpebra mobile, questo correttore mi sta facendo delle pieghe pazzesche. Non lo proveremo oggi, super approvato, è un prodotto carinissimo e veloce da usare per tutti i giorni, ricorda un pochino i matte metals di Huda Beauty. La palette di oggi è gigante e questa si chiama After Hours, già l'avevo aperta un sacco di tempo fa, ce l'ho un bel po' lì che la devo provare e ancora non l'avevo inserita in un video, era arrivato il momento. È fatta in questo modo, non so neanche se la vedrete benissimo, vi metto magari adesso mentre chiacchiero le immagini da vicino, sembra un po' un lingotto d'oro ma in versione opaca e sopra c'è scritto stila. All'interno gli ombretti sono meravigliosi, o almeno sembrano meravigliosi perché ancora non li ho neanche toccati, guardate la palette è ancora qui perfetta. C'è una buona varietà di opachi, brillanti, ci sono anche un paio di satinati, un glitterato, insomma sembrano vari finish molto interessanti e questa come tonalità è più sui freddi. Mi chiedete sempre di farvi vedere delle tonalità un pochino più fredde, eccole qui. La cosa che mi piace molto è che le cialdine sono giganti, solitamente fanno le palette ma con le cialdine minuscole. Voi in questo momento starete già vedendo gli swatches e non so se starete dicendo wow sono fantastici. Io li toccherò per la prima volta insieme a voi, vediamo un po', prendiamo questo rosino qui sopra brillante. Al tatto non sembra male, un po' glitterino come consistenza, mi sembra che l'ombretto si prelevi. Vediamo anche swatchandolo così, un po' granuloso come consistenza. Il colore di base è bello pieno e ci sono un sacco di micro glitterini sopra. Me lo sarei aspettato un pochino più scivoloso, più burroso, non so perché ma da stila ho grandi aspettative. Partiamo con l'opaco più chiaro, questo qui che è quasi un grigio, è talmente tortora che sembra proprio grigietto. Ne prendiamo un po' con un pennello gigante da sfumatura e ce lo iniziamo ad applicare così nella piega dell'occhio. Questo sarà il colore di transizione, quello proprio di base della sfumatura. Lo applico bello ampio fino quasi a toccare il sopracciglio. Andiamo avanti con un marrone più scuro e prendiamoci questo qui, vado con un pennello un pochino più piccolo e questa volta cerco di scolpire un po' meglio la piega dell'occhio, quindi vado molto più precisa rispetto al colore che ho applicato prima. Cerco proprio di ricreare la V qui esterna, quindi vado dall'attaccatura delle ciglia verso fuori e poi salgo un po' verso l'alto. Questo marroncino me lo aspettavo un pochino più intenso, carino ma me lo aspettavo un pochino più pigmentato. Proviamo ad andare ancora più intensi con questo qui che è un viola scuro, cioè non so se è un marrone scuro con sottotono viola o se è proprio un viola, vediamo come si applica. E siccome voglio renderlo, almeno cercare di renderlo un pochino più intenso, lo vado prima a pressare con un pennello piatto, in questo modo, un po' di fallout me lo sta dando, poi utilizzo un pennello da sfumatura sempre abbastanza piccino per sfumare il tutto. Ammetto che non sto rimanendo particolarmente colpita da questa palette come avrei voluto, perché guardate, basta un colpo di pennello e l'ombretto si dissolve, cioè perde proprio tantissimo di intensità, senza calcolare il fatto che comunque mi sta un po' sporcando la base. Da una palette di stila, come per il correttore, mi aspetto molto molto di più. Ammetto che la sto buttando un po' in caciara, come si dice a Roma, perché mi sono stufata di stare qui ad aggiungere, a sfumare, non si vede niente, quindi ho preso, ho messo il pennello nella cialdina e sto strofinando così un po' come capita per cercare almeno di dare un po' di intensità alla piega dell'occhio, perché la vedo proprio smortina. Vabbè, facciamo che va bene, perché tanto non riesco a fare di più. Completamente disomogenea, i due occhi sono uno diverso dall'altro, non riesco a sfumarli, non riesco a fare niente. Svento la bandiera bianca e procediamo in qualche modo. Volevo mettere questo rosino, ma ho paura. Sto parlando da mezz'ora e mi sono accorta di non aver registrato nulla. Che bello, questo video sta andando proprio di bene in meglio. Stavo dicendo che siccome sono un po' scocciata dal fatto che questo trucco non stia venendo come voglio, ho preso questa base qui di Corasona Beauty, che è la Magic Fix, che è una specie di primer colloso, non è una vera e propria cola per glitter, è come più un primer. L'ho messa su tutta la palpebra mobile e ci sto apprestando sopra questo rosino violetto qui. Voglio che almeno questo colore sia un minimo intenso, visto che questo trucco mi sta proprio levando la vita. Avete presente quando partite con le più buone intenzioni del mondo, dite proverò queste cose bellissime, farò un trucco fantastico e poi non è così, si rivela tutto il contrario. Ecco, oggi sono in quel mood. Io vi giuro che non so come salvare questo trucco. Non mi piace il correttore, non mi piacciono gli ombretti, mi sembra che sta peggiorando sempre di più mano a mano che vado avanti. Non so in che fare. Proviamo a prendere questo chiaro qui con un pennello e pressiamolo qui sull'angolino interno, vediamo se almeno il punto luce... Ok, lui è carino, ci sta, si applica e si vede. Forse nella piega dell'occhio dovrò andare con qualcos'altro, ma più che altro la cosa che mi preoccupa è che io dopo dovrei girare un altro video e forse devo struccarmi e ritruccarmi perché a questo punto non so come intervenire. Per salvare la situazione ho deciso di passare alla palette di Zoeva. Andiamo con un marrone che dovrebbe essere come tonalità molto simile a quello nella palette di Stila. Questa la trovate sempre sul sito di Look Fantastic. E cerchiamo in qualche modo di scurire, di dare vita un po' a questa piega dell'occhio, anche se adesso sarà un casino perché tutti i glitterini mi stanno cadendo qui e sarà un disastro. Allora, questo è il make-up terminato, non è neanche così tanto male visto da lontano e visto nell'insieme, ma parliamone un attimo perché vi dico già che concluderò questo video qui. Non ci saranno check durante la giornata, sono proprio delusa da quello che ho provato oggi. Mi sono guardata da vicino per mettere il mascara e cose varie nello specchio, il correttore è terribile, cioè su di me fa proprio un effetto bruttissimo. Non ha coperto così tanto, cioè è proprio pesante ma comunque l'occhiaio è un po' traspare al di sotto, leggermente, non tantissimo, però diciamo che non sono contenta del correttore. La palette non ha migliorato la situazione, i brillanti mi sembra che si siano comportati bene, però per quanto non mi piace la situazione qui della zona occhi non riesco a giudicarli. Sicuramente la riproverò, anche perché non vorrei che la situazione fosse così per colpa del correttore, secondo me no, però comunque le darò un'altra chance. Gli opachi si sono comportati proprio male, 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 cioè secondo me vanno riformulati, anche perché stiamo parlando di una palette che comunque ha un certo costo, non è una palette economica su cui posso sorvolare se alcuni ombretti non funzionano bene. A me non sono piaciuti proprio per niente. I brillanti, i due che ho provato comunque sono intensi, ma il glitterato, quello più rosa che ho su tutta la palpebra mobile, va comunque messo con una base, altrimenti glitter e polverina, cioè proprio colore di base, volano ovunque. Ho avuto un po' di fallout sia con il colore più scuro che con il colore glitterato, quindi attenzione se vi dà fastidio. Non è sicuramente la paletta adatta a voi, diciamo che in generale non sono rimasta molto colpita da questo prodotto. Continuerò comunque a testarla perché non vorrei bocciarla così al primo utilizzo, magari riprovandola riesco a trovare qualche lato positivo. Guardandomi da lontano, ok non è un trucco riuscito proprio malissimissimissimo, anche perché gli altri prodotti insomma funzionano bene. Se devo stare qui a giudicare e devo consigliarvi di acquistare i prodotti che ho provato oggi, per me è un no. Oggi ci chiudiamo il video qui, non andiamo avanti, non facciamo check durante la giornata perché tanto per me il correttore ha già bocciato da adesso, cioè non mi piace, non vedo come possa migliorare durante la giornata. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piace vedere anche questi video che non vanno proprio lisci come l'olio, come dire. Quindi ragazzi vi ringrazio per avermi guardato, se il video vi è stato utile o comunque vi ha tenuto compagnia, lasciatemi un po' di amore come al solito con un cuoricino o un pollicino o un pollicione all'insù, oppure iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao!